Allora, per salire le scale è un po' a contrario rispetto allo scendere, quindi tu scaricherai il peso sulle stampelle e porterai davanti la gamba sana. La gamba sana è la pelle per salire, quindi la forza, la gamba operata e se non è la pelle. Quindi è gamba sana, stampelle e galle operata. Gamba sana, gamba sana, stampelle e galle operata. Quindi, guardi, gamba sana, stampelle e galle operata. Gamba sana, stampelle e galle operata. Perfetto. E' bravo, tendi ad appoggiare, fai bene tutto il piede sullo schieno. Quindi è importante fare molta attenzione e esatto, appoggiare tutta la piatta del piede sullo schieno. Non deve uscire fuori, per quanto possibile, per grande. Benissimo. Bravo. Posto. Per scendere le scale, dopo un intervento, un intervento, un intervento inferiore, che sia protesi d'anca, protesi d'inocchio, scusi d'anca, si fa in questo modo. Si portano davanti le stampelle, quindi stampelle, gamba operata, in modo da scaricare il peso della gamba operata, per certo forza, sia sulle stampelle che sulla gamba sana. E poi segue la gamba sana. Quindi, si continua così come le stampelle, gamba operata, gamba sana, stampelle, gamba operata, gamba sana. Una cosa importante è cercare di mettere le stampelle come le sta mettendo qui, cioè non troppo vicino all'altro scalino, ma, diciamo esatto, più o meno là. Né troppo vicine al bordo, né troppo vicine allo schieno, gamba operata e gamba sana. Benissimo, e questa è una visione di equilibrio.